Ci spiega un pochino anche per le corde? Ma le corde sono, anticamente erano di budello, di animale, quindi venivano ricavate dal budello. Adesso nei violini antichi, perché c'è musica antica, per cui la tastiera era diversa, era leggermente più corta, le corde sono di nuovo di budello e che hanno questo suono molto più morbido, però sentono molto di più l'umidità e quindi tendono a fischiare, però bisogna avere tantissime accortezze per riuscire a far suonare il violino con le corde di budello, quindi bisogna continuamente accordarlo perché si scorda più facilmente rispetto. Invece nel violino moderno, diciamo, le corde sono di metallo rivestito, perché dentro sono solitamente di nylon. L'archetto, ecco l'archetto del violino, adesso vi faccio vedere, abbiamo uno qua. Questo è un archetto provvisorio perché quelli... Questo lì è il tuo violino, quello che stai suonando tuttora adesso, no? No, questo è quello che ho fatto la prima volta, questo qua, il mio primo violino, sì. Il mio primo violino è... se vedete vi faccio sentire due notti. Certo, dopo no, ci fai un pezzettino perché lo metto di sottofondo. Ah, va bene. Allora, praticamente l'archetto del violino, io non lo costruisco, l'archetto, perché non mi piace costruire gli archetti, non so perché, però... Allora lo lascio costruire a chi... E poi insomma, anche qua c'è una scuola importantissima, perché sembra una bacchetta di legno da niente, ma è importantissima, perché deve... è un po' come la bacchetta di Harry Potter, no? Per cui ognuno ha bisogno del proprio peso, dell'elasticità che viene richiesta da ognuno di noi, no? Vuole più nervoso, meno nervoso. Ed è fatto con il legno di Pernambuco, che è del Brasile, che è proprio un legno apposta per fare gli archetti, e anche qua va indovinata la venatura giusta per dare l'elasticità giusta al legno e per far sì che non si storti in continuazione, perché l'archetto deve essere bello dritto. La parte bianca che voi vedete è di crine di cavallo maschio, perché, come i capelli, i crini hanno dei dentini. Allora, il cavallo maschio li mantiene tutti sani, questi dentini, invece la femmina, facendo la pipì, li corrode e quindi va a finire che non vanno più bene, poi perché non fanno più attrito sulla corda, quindi non... e adesso vi faccio vedere, perché smontando l'archetto si vede benissimo che sono crini di cavallo. Ecco. Ah, ecco. Visto? Sì. Questo, di solito, non... i bambini rimangono sempre molto colpiti da questo... E quindi... Quanti ce ne sono, non lo sai. Eh? Quanti ce ne sono. Ah, no, no, non lo so, non ho idea, perché poi c'è chi vuole l'incrinatura più larga, chi la vuole media, chi la vuole più scarsa, dipende dai violinisti, e quindi, no, non c'è un numero di crini, no. L'importante è che siano impiatti, no, che non ci sia, come vedete, se lo guardiamo di fianco così, sono abbastanza... cioè, non vanno indentro, cioè, deve essere bello... deve sembrare una fascia, ecco. Capito? E sopra, sopra ai crini ci va una pece, che praticamente è una resina, sarebbe colofonia, in pratica. Adesso, non ce l'ho qua però, ce l'ho su. Vabbè, è una resina che si applica all'archetto, la sistorfina sull'archetto, rilascia una polverina bianca, appiccicosa, che è quella che fa attrito sulle corde, per cui i crini non scivolano, ma aderiscono e danno la possibilità alla corda di vibrare. Lili, dove è nata la tua passione per la musica? Allora, è nata che avevo tre anni, grazie al fatto appunto di questo ragazzo, c'era un ragazzo all'asilo, aveva fatto vedere il violino ai bambini, poi l'aveva suonato, io ero rimasta proprio incantata, quindi ho cominciato a chiedere a mia mamma se potevo suonare il violino, e mia mamma mi diceva, ma no, sei troppo piccola, hai le mani troppo piccole ancora, bisogna aspettare un po'. Ero così in smania, perché volevo assolutamente cominciare a suonarlo, che ogni giorno gli chiedevo, ma sono diventate un po' più grandi le mie mani? Sono cresciute. Finché quando ho avuto, poi ho compiuto sei anni, e che ho imparato a scrivere la prima letterina a Santa Lucia, avevo chiesto a Santa Lucia, che volevo, oh, caro Santa Lucia vorrei tanto un violino, e mia mamma ce l'ha ancora questa lettera. Ha visto che ero così convinta del fatto che volevo suonare, perché sai, i bambini ne dicono magari, però ero così determinata in questa cosa, che mi ha portato in conservatorio, e ho cominciato a suonare. Che tratti fa a madre suonare? Anche me è pianista, sì sì. Mia mamma è pianista. E' una famiglia di musicisti. Beh, sì, la musica ce l'abbiamo sempre. È importante avere musica intorno, andare a sentire concerti, questa è la cosa importante, perché i bambini hanno la possibilità, soprattutto se sono concerti dal vivo, di essere più emotivamente coinvolti, e magari possono scattare delle passioni, come è successo a me. Come è stato importante che questo ragazzo fosse venuto all'asilo, uno dice, vabbè, sono piccoli, cosa può servire? Invece è importantissimo, sì. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa, come mai la passione, la voglia di venire a vivere qui in Valceno? Ti ha spinto qualcosa di particolare? Allora, è partito mio fratello Marco, che è venuto ad abitare qui, con la sua compagna, ad un certo punto ho detto, dai Lilli, vieni su in Valceno, perché è bellissimo, insomma sono venuta e ho detto, ma figurati Marco, c'è talmente tanta strada, una volta che devo andare al cinema, ci devo pensare su bene, perché no, no, non vengo, non vengo, diceva, non vengo. Poi a un certo punto... Tu vieni dalla città, da Parma, vero? Sì, mi ha trovato una casa, e gli ho detto, gli ho detto, ho trovato la casa? Gli ho detto, no, dalla ad Antonio, e infatti Antonio, l'altro mio fratello, è venuto su, si è fermata ad abitare lì, a un certo punto, due su tre erano qui, io che dovevo fare le prove con loro, perché suoniamo insieme, ero l'unica che si doveva spostare, perché anziché farne spostare due, mi sposto solo io. Mi sono abituata alla strada, al posto, alla gente, mi è piaciuto molto, e quindi adesso faccio fatica ad andare a Parma, capito? Dicevo, prima dicevo, ma cosa faccio qua, perché non c'è niente da fare? E invece in realtà, qua faccio tantissime cose, ma parte che si suoni insieme, si è creato anche un gruppo, anche di persone, più o meno della nostra età, che sono venute ad abitare qua, artisti e non, comunque bellissime persone, con le quali ci si trova e si fanno cose insieme, il Cineforum, per dire, ci troviamo tutti insieme, cene, poi andiamo a Castagne, poi andiamo in fiume, poi organizziamo delle cose, come Flavio ben sa, quindi sai, qua andiamo a fare passeggiate nei boschi, ce ne è da fare sempre. Quindi la Valceno è bellissima? È bellissima, per me sì. Quindi puoi consigliare alla gente di venire a vivere qua? Tu consigliare alle persone di venire a vivere proprio in Valceno, perché è una bella vallata, Sì, è bellissima, per me è molto bella, il bello della Valceno è anche che è molto selvaggia, quello che piace a me, non è così turistica, è quindi da scoprire, questo è il fascino che ha la Valceno, per me, e poi è ricca di tantissime cose, perché a parte che ci sono castelli, tra il castello di Bardi, il castello Avarano, il castello di Golaso, il castello Corniglio, poi c'è il battistero di Saravalle che è un gioiellino, che quasi nessuno conosce, è proprio un gioiello. Poi per non parlare di tanti altri posti, città d'Umbria, anche dal punto di vista paesaggistico, se si va a Tosca, ma insomma non finirei più di parlare della Valceno, per questo, e quindi è per questo che sono venuta qua. Bene, mi trovo bene. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.